Che stava facendo lei? Io mi permettevo di bere un goccettino di acqua minerale. Bravo, bravo. Continui, continui. Vale, porti subito 25 bottiglie d'acqua minerale, di quella marca. Era la terribile acqua Berghier, la più gasata del mondo. Dove? Dove? Beva, beva. Beva, beva. Il grado ha lei inditta? Io, l'undi, il dodicesimo, cioè l'ultimo. Promosso l'undicesimo. L'undicesimo, con diritto a scrivania personale e poltroncine in sky, ho finta pelle. Sì, 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 ma beva, beva. In due ore Fantozzi ingorgitò quattro casse di acqua Berthier, equivalenti a tre metri cubi di gas compresso. Dovette allora ancorarsi come un pallone sonda. No, 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 mi dia la sedia. Sì. Mi dia la sedia? Calma, stia calma. Ecco. Se no le cade e va in testa qualcuno. La sedia del casino. Vada qua. Premio ridotto sull'astrico, menagramo. Se ne vada, sparisca. Menagramo. Prima che le licenzi. Menagramo don menagramo. Tu, tu, tu. Ehi, 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 lasci stare quel portacenere, è del casino. Dove va? Lo riporti indietro. Fantozzi e il secondo tragico Fantozzi tornano al cinema restaurati in 2K. Va di subito a comprare il biglietto alla cassa. Come umano lei è molto umano.